E' stata istituita la commissione che lavorerà all'analisi di fattibilità per la realizzazione dell'ospedale di Ponente da costruire agli Arzelli. L'analisi di fattibilità definirà un capitolato tecnico-scientifico con tutti i requisiti per la struttura dovrà avere per essere realizzata attraverso il bando di gara con i privati, convenzionati che parteciperanno alla costruzione dell'edificio e alla costruzione partecipando alla commissione Alisa. Il Dipartimento regionale della sanità, il Comune con tutti i dipartimenti interessati e l'ASL3.